per un'alleanza di governo. Ovviamente io devo dire grazie, grazie ai cittadini, in particolare grazie ai cittadini di tutto il Lazio e grazie ai cittadini e alle cittadine di Roma e della sua provincia che hanno avuto una grande generosità a sostegno di questa esperienza di governo. Questa bella alleanza del fare, come l'abbiamo chiamata, deve dare e dovrà dare il suo contributo culturale, valoriale, per ricostruire e rigenerare il centro-sinistra. È il tempo della rigenerazione che significa per tutti, ricostruire un'anima, un progetto, una visione, una cultura politica, un'identità per chi si sente da questa parte del campo, all'insegna del rispetto delle differenze, del confronto tra le differenze e della piena condivisione del valore delle differenze che unite dentro un'unica cultura politica non significa debolezza ma come abbiamo visto con questi voti che insieme abbiamo conquistato significa forza e quindi deve vivere e rinascere la stagione del per e la stagione del noi, archiviando una fase nella quale idee diverse di per sé hanno vissuto nella storia come divisione. Idee diverse devono esistere, possono confrontarsi ma dovrebbero sempre trovare come siamo riusciti a fare noi, il momento della sintesi e dell'unità per vincere. Ecco il senso di questa serata.